In una calda giornata d'estate, gli animali della fattoria decisero di organizzare un picnic sul prato. C'erano tante prelibatezze da gustare. Mele, ciliegie, lattuga, pomodori, funghi e patate. Non mancava davvero nulla. C'era però qualcuno che non sapeva apprezzare questi gusti raffinati. Era Jeff il cavallo. Metti in ordine gli ostacoli, dal più scuro al più chiaro. Eccezionale!